Si torna a parlare della TIA, la tariffa di igiene urbana approvata dal Comune di Teramo qualche anno fa. Dopo l'accusa del centro-sinistra dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l'altrettanto dura risposta da parte del centro-destra, nella persona di Fernando Cantagalli, ex assessore al Comune di Teramo. Noi abbiamo correttamente applicato l'IVA il 10% come per legge, ma adesso sostenere che il Comune deve rimborsare un milione di euro ai cittadini, quasi paventando un disastro economico, questo allarmismo, beh questo è veramente preoccupante, perché si dimostra ancora una volta l'impreparazione di questi aspiranti amministratori, cioè non conoscono le regole più elementari entro le quali dovrebbero esercitare, io spero mai, il loro mandato. Lo stesso Cantagalli poi punta il dito sulla provincia di Teramo. Perché non parliamo del balzello della provincia sia sulla Tarsu che sulla TIA? La provincia ha stabilito un'aliquota pari al 5%, voi vedete le bollette, vedete l'addizionale provinciale 5%. Bene, la legge non impone il 5%, ma dice fino al 5%, quindi può essere da 0, 1, 2, fino al 5%. La provincia applica il massimo, perché?